Ancora situazione incerta a Santa Venerina per quanto riguarda il tema del mercato settimanale del giovedì. Non è infatti passata in consiglio la proposta di spostare la sede del mercato in via Trieste. La sua storia, cominciata un anno fa con la sua creazione, è piuttosto complessa e continua a mostrare problemi sulla sua collocazione definitiva. Lo scorso anno, infatti, era stato posizionato nello spazio antistante il campo sportivo, ma le lamentere degli operatori per la poca affluenza di gente causata dalla lontananza dalle zone trafficate della città e la conseguente scarsa visibilità ha costretto l'amministrazione a un ripensamento della sua obbligazione. Nei mesi scorsi, in via sperimentale, il mercato era stato poi spostato in Piazza Roma, ma da subito ha mostrato problemi legati al conflitto con l'utilizzo della piazza per altre attività durante il periodo estivo. La proposta arrivata in consiglio negli ultimi giorni era stata quella di spostarlo in via Trieste, avendo avuto anche riscontri positivi da parte degli espositori, che da tre giovedì consecutivi hanno registrato una maggiore partecipazione dei cittadini. L'iter sembrava dunque concluso, ma non ha avuto il numero sperato di voti favorevoli. Dunque la proposta non è passata e di conseguenza il mercato verrà ricollocato nella sua sede originaria. Il sindaco Salvatore Greco è rammaricato per la mancata risoluzione della vicenda e preoccupato per gli eventuali malumori che si diffonderanno nei prossimi giorni tra gli ambulanti.